benvenuti amanti del gaming giocatori al computer o semplici usufruitori del pc sapete bene che il computer è un luogo dell'anima passiamo decine di ore davanti al pc settimanalmente avviando programmi giochi e quant'altro ma vi siete mai chiesti se il vostro computer sta bene quando voi lo usate il computer attira polvere con le sue ventole la sparge e con il tempo si deposita all'interno è quindi saggio e prudente pulirlo per bene ogni tanto prendersi cura del nostro compagno di avventure ci fa bene in questo video vediamo in pochi e semplici passi come coccolarlo un po' tra una pulizia e l'altra seguitemi dopo averlo spento stacchiamo tutti i cavi presenti nel retro ci attrezziamo con una tovaia su un tavolo e lo posizioniamo nella nostra officina metterlo su un tavolo infatti risulta essere molto più comodo e lavoreremo quindi con più calma e precisione iniziamo con una superficiale pulizia con un panno a secco giusto per levare la polvere esterna dopo di che immergiamo la punta di qualche cotton fioc nella nostra soluzione di spirito o acetone dopo essersi assicurati di non frascicare il computer puliamo i filtri esterni eliminando batteri polvere capelli briciole e quant'altro in maniera molto delicata ripassiamoci sopra con un pennello possibilmente appunto morbido apriamo il case nel mio caso l'apertura è laterale andremo ad utilizzare un phon per la pulizia dei componenti interni ma modificando il beccuccio così da aumentare la velocità dell'aria in uscita grazie a tutti andiamo ad usare un'area tiepida non troppo calda e fredda se possibile a temperatura ambiente e ovviamente alla massima potenza l'area del phon non causerà condensa quindi non c'è pericolo di rovinare i componenti del computer nella parte sotto del pc andiamo a pulire il filtro che molto prima degli altri si riempie di polvere poi con un po' di pazienza e di fortuna tra i tanti prodotti della mamma cercatene uno adatto per la pulizia di una superficie trasparente proprio come il mio pannello laterale ringraziamo e dichiariamo ufficialmente la collaborazione con il network delle id tutti i dettagli nella descrizione e salutiamo il network buona fortuna per altri video mettete mi piace commentate e iscrivetevi ciao grazie a tutti grazie a tutti